Musica Ma se gli diciamo... Non dateci i soldi Eh? Eh Peppe, se puntiamo su questa cosa... Fa venire i sensi di rimossa la persona qui Non dateci i soldi Però non vi lamentate Se poi tutte le cose fanno... Però non ci ridate i soldi Fa venire il senso di colpa alla persona E magari ti dà centesimo e mezzo